Vangelo di Matteo, leggiamo dal verso 25 del capitolo 6, a Dio sia la gloria. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono ingranai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede, non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo, basta ciascun giorno il suo affanno. Qualche altra traduzione dice in questa parte finale, perché il domani porta le sue inquietudini, oppure il domani si prenderà cura delle sue cose. Ciascun giorno porta il suo affanno. Ed è da qui che voglio iniziare una breve riflessione con voi. Non c'è giorno, uno. Se qualcuno pensava di poter avere nell'arco della sua vita un giorno senza preoccupazione, un giorno senza affanni, un giorno senza ansietà, un giorno senza litigi, un giorno tutto pace e quiete, ha una sola possibilità. Naufragare in mezzo al mare e ritrovarsi da solo, unico superstite, senza neanche venerdì il fedele servitore, unico superstite su un'isoletta sperduta in mezzo ad uno degli oceani sulla faccia della terra. Poi quando vi ritroverete da soli, sperduti in mezzo al mare, fatemi un colpo di telefono o mandatemi un messaggio nella bottiglia e fatemi sapere se siete sereni, tranquilli e felici o non rimpiangerete piuttosto le ansie, le preoccupazioni, i fastidi e i disturbi che ogni giorno avete in questa parte del mondo, nella vostra città, nella vostra casa, nella vostra famiglia. Ogni giorno porta il suo problema, ogni giorno porta le sue inquietudini, ma io mi domanda, ma è mica il giorno che le porta? È mica il tempo che le porta? O invece è la nostra vita, che è un carico di ansie, di preoccupazioni, di inquietudini, perché il nostro cuore progetta continuamente migliaia e migliaia di cose. Non si accontenta mai di quello che ha. Se abbiamo uno vogliamo due, se abbiamo due vogliamo tre, se abbiamo tre vogliamo arrivare a dieci. Non siamo mai paghi di nulla. Ed è per questo che allora Gesù fa un discorso molto molto largo. Gesù parla del preoccuparsi del mangiare, e il che non vuol dire, così come qualcuna delle nostre care sorelle, già ha fatto oggi pomeriggio. Di solito la domenica sera non c'è questa preoccupazione, perché si mangia abbastanza il pomeriggio per far digiuno la sera, però hanno la preoccupazione di domani, che cosa far per merenda al marito che deve andare al lavoro, e i figli, ah no, domani non c'è scuola. Domani avete qualche inquietudine in più. Il giorno di domani vi porta qualche preoccupazione in più. Quella che ha tolta i nostri figli che non vanno a scuola, la caricherai in più sul conto dei genitori che dovranno sopportarsi i figli a casa domani. Di che mangiare, di che vestire. Il che a volte può sembrare roba banale, ma altre volte per alcuni realmente diventa una cosa seria. Io so che molte persone, pur per venire in chiesa, non voglio dire al femminile o al maschile, parliamo in generale, stanno tanto tempo davanti al guardarobba, mettono una cosa ne mettono un'altra e si tormentano l'anima perché non riescono a vestirsi come vorrebbero per venire in chiesa. A queste persone non dico venite nude, dico vestitevi più serenamente. Perché chi viene in chiesa non si deve sentire giudicato o criticato da nessuno per come si è vestito. Si ha messo la gonna, si ha messo i pantaloni, si ha messo la scarpa bassa, si ha messo il tacco, si ha messo la camicia, si ha messo il maglione. Portiamo l'anima in chiesa. Portiamo il cuore. E lui è d'accordo con me. Portiamo il cuore. Perché Dio non si ferma alle apparenze. L'occhio di Dio va sotto i nostri vestiti. E sotto al vestito che cosa c'avete? Ce l'avete all'animo, è rimasta da qualche altra parte. C'avete quello che è il Tempio dello Spirito, o l'abbiamo lasciato a casa. Perché se vogliamo servire il Signore con il nostro cuore, con la nostra anima, con quella che è la parte migliore di ciascuno di noi, credo che su tante cose complementari dobbiamo imparare ad essere più leggeri. Uno, perché si vive meglio. due, perché si spende di meno. E tre, perché non pecchiamo di vanità. Sul vestire. Ma la stessa cosa vale sul mangiare, su tutte quelle che sono le attività di ogni giorno. E questo brano del Vangelo ci dice ricordatevi, la vita è più di quello che mangiate. La vita non è quello che voi ingerite. Perché noi possiamo stare anche due, tre, quattro giorni senza mangiare nulla. Continuiamo a vivere lo stesso. Qualcuno dice, ma un po' debolmente. ma la vita quello che noi siamo non è quel che noi mangiamo. Anzi, quel che noi siamo è quello che esce da noi. Qualcuna volta si preoccupa su quelli che sono gli alimenti che vengono ingeriti. Ma Gesù ha detto che quello che è dentro al nostro cuore è quello che esce fuori. Perché quello che mangiamo sì, è vero che esce, ma finisce nelle fogne. Quello che invece esce dalla nostra bocca, le nostre parole, i nostri pensieri, non dipendono da quello che abbiamo mangiato, ma dipendono da quello che abbiamo dentro al nostro cuore. Se nel nostro cuore c'è la parola di Dio, la nostra bocca, il nostro parlare sarà condito con il sale della sua parola. La vita è più del nutrimento. Il corpo è più del vestito. Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo ed è per questo che lo dobbiamo curare non con quello che ci mettiamo sopra, ma lo dobbiamo curare per quello che sta sotto, per come lo alimentiamo, per come lo trattiamo, per come ci prendiamo cura delle nostre membra, se le imbrattiamo, se le tatuiamo, se ci facciamo i piercing vari, qualcun altro si fa le ferite, ci sono religiosi che praticano ferite nel corpo per esprimere la loro spiritualità e non pensate alle Indie, vi cito i battenti, quelli che portano una certa madonna, si chiamano battenti proprio per il fatto che si battono il corpo e si praticano delle ferite. Non è questo ciò che il Signore vuole dai nostri corpi. Voi valete più degli uccelli, voi valete più dei gigli del campo, sembrano due paragoni a noi molto lontani, ma se guardiamo agli uccelli dei campi che non vanno a lavorare, che non si affaticano a organizzare le feste di compleanno e di matrimonio, non organizzano nessuna cerimonia, non pigliano appuntamenti nell'arco della giornata, eppure volano, cantano e mangiano, fino a quanto non incontrano qualcuno come qualcuno che è in mezzo a noi che le piglia schioppettate. piccola parentesi, penso che la caccia non sia uno sport molto adatto ai credenti, chiudo la parentesi, poi ciascuno è libero, io ogni tanto esprimo opinioni pubbliche, noi valiamo più degli uccelli che non fanno nulla, ma mangiano e cantano tutti i giorni. Ma Gesù dice ancora di più, dice i pagani, cercano queste cose. I pagani si affaticano in programmi, in progetti, rincorrono le varie attività. Voi dovete avere una sola preoccupazione. Avete spento il gas, avete chiuso la luce, avete chiuso la chiave alla porta, dove avete lasciato le chiavi. No, l'unica preoccupazione che noi dobbiamo avere cercate il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose per cui a volte stiamo a preoccuparci sono una preoccupazione del Signore. Se ne preoccupa Lui per noi, perché Egli sa ciò di cui avete bisogno. Egli è colui che dona ai suoi figli prima che ancora essi aprono la loro bocca. Vorrei fare una riflessione conclusiva per tutte le cose che ci preoccupiamo. Se non ne avessimo nessuno ci preoccuperemmo lo stesso o ne faremmo tranquillamente a meno? Se la nostra preoccupazione è cercare il regno di Dio e la sua giustizia vuol dire che tutte le ansie e le sollecitudini di questa vita non ci dovrebbero appartenere o quantomeno dominare. Però che cosa accade? Per esperienza noi sappiamo che il credente sta continuamente a pregare a chiedere al Signore cose materiali. Sono molto pochi quelli che chiedono in preghiera al Signore cose spirituali del tipo avere dei doni dei talenti per ministrare sono pochissimi quelli che dicono Signore mettimi in condizione aprimi una porta voglio fare il missionario voglio lasciare mia madre mio padre non mi voglio sposare voglio partire c'è qualcuno che da queste parti fa questa preghiera io me lo auguro spero invece la maggior parte delle preghiere i più giovani signore trovami marito trovami moglie e poi non sanno che trovando marito e trovano moglie portano problemi ai pastori che devono fare consulenza matrimoniale non sanno che poi arrivano i figli e ci sono i problemi alleanze con i figli e i pastori devono stare a diramare i problemi tra genitori e figli va bene ma uno potrebbe dire non sono cose materiali il lavoro vorrei comprarmi una casa perché uno poiché cerca lavoro per avere delle risorse da spendere e stiamo continuamente a rincorrere dietro cose che dice il vangelo lasceremo qua giù perché nudi siamo venuti e nudi ce ne andremo qual'era la conclusione la prendo da dalla meditazione che in settimana condividevo altrove ed è quella del diavolo che si presenta in mezzo agli angeli al trono di dio in quello che è il racconto della storia di giobbe giobbe era uno come noi anzi magari noi fossimo come giobbe giobbe era un ricco imprenditore teneva un sacco di proprietà teneva un sacco di animali teneva pure un sacco di figli teneva un sacco di ogni cosa aveva anche un sacco di fede giobbe un sacco ne aveva di fede al punto che quando il diavolo si presenta al cospetto di dio non vi stupite del fatto che il diavolo va a parlare con dio se dio parla con noi perché non potrebbe parlare anche con il diamo vi reputate migliori del diavolo voi è una grazia dell'eterno se possiamo parlare con lui e il diavolo si presenta al suo cospetto con la lingua di fuori tutto affaticato e il signore gli dice appunto da dove vieni faccio il giro della terra destra sinistra nord e sud su e giù che pena la mia vita una vita da diavolo e il signore dall'altra parte ma hai visto sei passato dalle parti di giobbe immaginate Dio come un genitore che si vanta di un figlio ma hai visto come bravo come mi ama come mi teme sulla faccia della terra non c'è un altro come lui e il diavolo che è sì cattivo ma è cattivo perché è astuto dice addio per forza ti deve amare onorare rispettare tu gli hai dato un sacco di proprietà gli hai dato un sacco di soldi gli hai dato un sacco di animali gli hai dato un sacco di figli togliamo qualche sacco di mezzo e vediamo se ti ama la domanda la sfida che il diavolo lancia a dio è questa vediamo se giobbe ti ama per nulla io cercavo di materializzare il nulla perché quando noi diciamo nulla che cosa è nulla niente e chi di noi direbbe grazie signore per niente chi di noi direbbe benedetto sia il nome del signore per niente il diavolo chiede a dio dagli il niente e forse quello che sta accadendo attorno a noi potrebbe essere una sfida in cui il diavolo ha chiesto a dio dal tuo popolo il niente e vediamo se ti amano ti benedicono ti rispettano vediamo se ti rimangono fedeli e allora io vi faccio questa domanda sareste capaci di benedire il nome del signore per niente senza avere di che vestire di che mangiare senza avere nulla da spendere saremmo capaci di benedire il nome del signore io credo che davanti al testo che vi ho posto innanzi voi tutti insieme a me dovreste dire sì perché la scrittura dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia tutte le altre cose ci pensa lui sono un problema suo ed è per questo che Giobbe poteva dire Dio ha dato Dio ha tolto se noi abbiamo consapevolezza che quello che abbiamo non è nostro nel momento in cui lo perdiamo non dovremmo disperarci perché non è nostro ma era un dono di Dio e siccome Dio ce l'ha dato se lo può riprendere in qualsiasi momento utilizzo sempre questo è un dono di Dio lo so per voi è insignificante però se aveste il raffreddore vi colasse il naso in questo momento e non avreste il fazzolettino in tasca vorrei vedere che Dio me ne dai uno Dio fa il suo dono e ce lo affida nel momento in cui noi riceviamo e stringiamo nelle nostre mani se io in questo momento una volta che li ho dati a Cipriano dico di chi sono Cipriano dirà sono i miei ed è quello che noi facciamo è mio e quando poi il Signore viene se lo riprende noi diciamo perché perché Signore perché proprio a me con tanti fedendoni in giro vieni a prenderti proprio il mio come il mio vicino è un delinquente è un incivile è un disonesto è un peccatore e tu vieni a bussare alla mia porta se ragioniamo in questi termini stiamo dando ragione al diavolo che è andato al cospetto di Dio e gli ha chiesto dagli niente e vediamo se ti benedicono quelli che amano il Signore anche se non avessero più nulla continueranno a dire confiderò sempre nel mio Signore allora se viene un momento della nostra vita un pochettino complicato difficile dove le paure cominciano a diffondersi attorno a noi dove al minimo picchiettare alla porta ci spaventiamo prendiamo la lampada la lampada dello spirito controlliamo se dentro c'è luce sufficiente e se vediamo che la fiammella è fiocca pieghiamo le nostre ginocchia e diciamo Signore ho bisogno di una ricarica Signore riempi la mia lampada perché i tempi si stanno facendo difficili perché il buio sta calando sulla faccia della terra e tu stai per tornare cosa vuol dire secondo voi resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi a volte i più giovani pensano che il diavolo viene come una bella fanciulla tutta nuda e si presenta per solleticare l'aspetto sensuale ed emotivo qualcun altro ha una sua debolezza e pensa che il diavolo si veste in un certo modo per andare a solleticare la sua debolezza io sono convinto di una cosa che il diavolo non prova le nostre emozioni il diavolo è preoccupato della nostra fede perché la scrittura dichiara che chi crede nel signore sarà salvato e allora il diavolo farà di tutto per mettere in discussione il nostro credere fino ad andare a sfidare Dio e a dirgli togligli tutto quello che gli hai dato però sappiate una cosa che se questo dovesse accadere durerà per un certo tempo perché Dio darà pure soddisfazione al diavolo nel libro di Giobbe bruciano le stalle muoiono gli animali muoiono tutti i figli gli rimane la moglie no io non faccio commenti sul vostro commento e non mi meraviglio neanche di quanto è furbo il diavolo la moglie gliel'ha lasciata ed è la moglie a provare la fede di Giobbe a dirgli come fai nella condizione in cui sei hai perso tutto e benedici ancora il tuo Dio chi aspetti a maledirlo ma Giobbe che aveva un sacco di fede e chi ha un sacco di fede sa che Dio non è bugiardo che Dio non rinnega se stesso che Dio qualunque cosa fa è la cosa più giusta anche se noi non la comprendiamo ed è per questo che Giobbe rimane fermo Dio ha dato Dio ha tolto sia benedetto il nome del Signore ma l'apice della fede è in quell'espressione io so al di là di quello che i nostri occhi possono vedere al di là di quello che la televisione ci può raccontare al di là di quello che potete leggere sui vostri telefonini preghiamo di avere la fede di Giobbe per poter dire io so non l'ho sentito per televisione non l'ha detto il pastore domenica non l'ho letto in un libro ma a livello proprio personale io lo so perché l'ho conosciuto io lo so perché l'ho sperimentato io lo so perché come l'ho conosciuto così è io so che il mio redentore vive Dio vive poi seconda fase viene il giorno non lo so quando viene il giorno in cui lui si leverà sulla polvere e mi darà soddisfazione quella soddisfazione potrebbe essere anche dall'altra parte quando quando egli ti dirà entra benedetto dal padre mio io so lo puoi dire io so che il mio redentore vive e viene il giorno in cui egli si leverà sulla polvere non lasciatevi abbattere da niente e da nessuno non pensate che domani sarà un giorno migliore neanche Rossello Ara lo disse in via col vento ricordate che cosa disse disse domani è un altro giorno non disse un giorno migliore se domani è un altro giorno con i suoi affanni le sue inquietudini le sue preoccupazioni ma noi anche domani benediremo il nome del segnale perché noi sappiamo che il nostro redentore vive allora ve la do come terapia è tempo di medicina al minimo sentore dovrei dire alla minima puzza di diavolo in giro non fatevi prendere dalla paura ma cominciate a dichiarare al diavolo che non vedete ma che vi gira attorno io so che il mio redentore vive io so che il mio redentore ti ha tritato il capo io so che il mio redentore ti ha vinto sulla croce io so che il mio redentore al mio fianco non mi lascia non mi abbandona io so che il mio redentore è più forte di te e io e lui sono più che vincitori passate dal silenzio alla dichiarazione e quel che dichiarate accade accade in senso spirituale questa sera rientrando a casa vostra fate quello che facevano gli ebrei in periodo di Pasqua passavano il sangue sugli stipidi della porta per dire all'angelo della morte questa casa è comprata dal sangue dell'agnela e nel devotional che ho condiviso oggi ricordo la pratica che ancora oggi hanno gli ebrei quando escono e quando entrano in casa loro passano la mano vicino agli stipidi per ricordare questa casa appartiene all'Eterno fatela come abitudine questa sera con una mano mettete la chiave nella porta con l'altra passate allungatele vicino allo stipido fate sentire ai principati attorno sopra questa casa appartiene all'Eterno Dio vi benedica grazie a tutti grazie a tutti